Amici miei belli nefasti, abbiamo fatto le 2800 medaglie su Clash Royale, un bel risultato, non sono poche, vediamo quanto siamo in top italiana per prima cosa, mi aspetto una top 40 in Italia, top 29, niente male, 29esimi in Italia, vediamo quanto siamo in top mondiale, più o meno un'oretta fa, quando ho fatto le 2008, ero top 992 tipo al mondo, 1.900 ora, niente, 1.900 al mondo ragazzi, risultato carino mi permetto di dire, cosa andiamo a fare in questo video? Vi andrò a far vedere dei replay, ma non per farvi vedere le partite, ma perché vi voglio spiegare nel dettaglio cosa ho pensato ragazzi, perché se voi volete utilizzare il mio mazzo e pensare di fare 2800 facendo il trenino, vi ricordate il meme di una volta no? Raga, non ci riuscirete veramente mai, sto risultato ve lo sognate, andiamo subito a vedere una partita che mi ha messo in difficoltà, stregone con pecca, contro stregone voluto si può vincere, attenzione, dipende da quali altre carte l'avversario, se c'è il pecca, so cazzi nostri, cioè questo è un matchup che in realtà non dovevo vincere, come mai sono riuscito a portarmela a casa? Perché l'avversario ha sbagliato, se l'avversario sbaglia allora si può vincere, facciamo, ah qua una cosa, fermo subito il video perché devo spiegare una cosa magari a chi non conosce questo mazzo, bisogna giocare lo stregone voluto più volte possibile, io vedo addirittura Zodiac che veramente segue questa logica all'ennesima potenza, veramente gioca stregone ovunque, io qua non me la sento però di giocare lo stregone, il mazzo funziona grazie allo stregone voluto, però qua è difficile giocare stregone ragazzi, faccio il farmer, faccio il re degli scheletri e grazie a dio mi fa riete quindi posso giocare stregone, ragazzi questo è un comandamento, dobbiamo giocare lo stregone con sto mazzo più volte possibile perché quello ebo è devastante, qui devo giocare anche la strega, pensavo che il nil dell'avversario fosse sbagliato invece era corretto, in precisione subito dell'oppone, l'avversario mi ha giocato lo stregone, cazzo lo stregone è una carta che a noi dà problemi, qua la giocata è una e golem a destra quindi opposite allo stregone appena sono fuori l'isir, l'opponent non avrà lo stregone per difendere, il nostro golem è come se fosse voluto a momenti, è più forte del normale, l'avversario si rende conto che ha sbagliato e mi pressa, guardate quante carte gioca, fantasma, bandit e stregone, si ha reso conto che ha fatto una cazzata e non mi vuole far giocare golem, ha paura di questa play, io capisco sta cosa e dico, ha brutto fio de puh, cioè tu hai paura di sta giocata, te la faccio al 100% allora, cioè tu mi stai veramente dicendo che non vuoi farmi giocare golem, io te lo faccio al 100%, devo giocare anche scheletri perché quello stregone mi stava un po' a preoccupare e devo tankare con stregone, qua faccio un'imprecisione raga, perché non ricordo bene il cycle dell'avversario, qua voi cosa fareste? raga la giocata è una, abilities now, l'abilità, perché non può giocare ariete, non può giocare sgherri, non può giocare zap, può solo giocare pecca, con abilities now, facendo l'abilità e spawnando scheletri vinco subito la partita, io però non ricordavo che avesse la zap in mano, sapevo del pecca, sapevo dell'ariete, mi sembrava avesse sgherri ma non ero sicurissimo, per sicurezza io non me la sono sentita di rischiare, mi sono sentito comunque forte in questo spot e dico l'abilità la posticipo, la faccio solo se mi gioca pecca e non in predict, ho sbagliato, però grazie a dio la giocata funziona uguale, faccio comunque abilities now, faccio comunque frecce e la torre me la porta a casa, e qua ragazzi in realtà ho, qui è un altro errore dell'avversario, l'avversario mi ha giocato di nuovo lo stregone, io voglio giocare golem opposite, quindi che succede? L'opponent dovrà rigiocare come prima, quindi pressare per evitare che io possa giocare golem opposite, io devo cercare però di giocarlo perché contro lo stregone sto in difficoltà ragazzi, c'è poco a dire, Quindi, l'avversario, già ha giocato lo stregone, quando capisco che gli tolgo lo scudo, decido di fare mi heal, anziché e golem, perché avevo paura della giocata ariete davanti lo stregone, tanto che lui l'ariete me la fa dal fondo, qui capisco che stavo giocando bene, però mi sta pressando, sta giocando bene, vuole evitare golem, e c'è riuscito, io qua devo difendere, e qua l'avversario ha riparato al suo errore, Faccio il farmer, qua l'avversario però sbaglia veramente, cioè non capisco il perché di questo bandit a destra che sta per giocare, mi ricordo proprio questo momento di partita, Abilities now, e lo bacio in bocca, lui è costretto a fare stregone, il terzo stregone, secondo me, sbagliato della sua partita, qual è la giocata qua ragazzi? Cioè ha giocato stregone, la carta che a noi dà difficoltà, e golem opposite ragazzi, qualcuno lo fa addirittura a ponte, a me non piace ragazzi, a me piace Partito dal fondo, su ariete che lui deve giocare per pressare, io comunque faccio stregone, e poi però capisco che qua deve attaccare, cioè lui se non riesco a supportare le golem perdo, Qua faccio una bella giocata che è lo split di scheletri in tu, re degli scheletri, e faccio un secondo golem, questo secondo golem ha un senso ben preciso, Mancano 27 secondi, se io riesco a fare tanti danni, anche concedendo una ripartenza, magari riesco a camperare in difesa e fare spell cycle, il mashup è difficile, quindi devo rischiare un po', se voglio vincere, a tutti i costi, in più posso giocare lo stregone al centro, lo stregone potrebbe targettare il suo stregone, e anche la torre, perché lui ha fatto un placement strano, ha giocato stregone davanti alla sua torre, con questa idea io preparo, cioè io provo a giocare in hill ovviamente, ma lui è bravo e tanca con ariete, però lo stregone qua è veramente forte ragazzi, la mia idea era comunque buona a quanto pare, ha funzionato se non altro, e io qua raga capisco che potrei aver vinto la partita, devo fare spell cycle, dopo che vedo il pecca dell'avversario, però cambio idea, faccio subito i golem, non ha i desir, se riesco a fare abilities now, so di vincere matematicamente la partita, una volta che arriva l'abilità, qua raga non c'è niente a fare per l'opera, ha sbagliato, ed è per questo che ho vinto ragazzi, attenzione, se lui avesse giocato bene, io questa partita non l'avrei vinta, quando l'avversario ha un bel matchup, vinciamo se lui, sbaglia secondo me, poco da dire, allora ragazzi vi faccio vedere, questo matchup di golem va un attimo contestualizzato, questo è un bel matchup per me ragazzi, e faccio una giocata particolare, perché mi ricordavo dell'avversario, il nome se ci fate caso è particolare, perché è lo stesso di quel personaggio di Naruto con la benda, il maestro Guy, il maestro Guy, quello con la benda che c'è allo Sharingan, mi ricordavo di lui, e mi ricordavo avesse il golem, perché l'ho trovato la sera prima in live, ragazzi, quindi sapevo contro che mazzo stavo andando a giocare, non mi ricordavo tutte le carte, ma sapevo che avesse il golem, allora che succede? gioco gli scheletri, per girare l'evoluzione, giocata standard, e aspetto un attimo, perché non ero sicuro fosse lui, lui non mi gioca niente, è un mazzo da per due, ma vuoi vedere che è davvero lui col golem? in realtà non ha giocato, cioè, questa è stata una piccola conferma, capito? Lui poteva giocare altro, quando però non mi gioca niente, io decido di fare una giocata che secondo me è quasi proibita, è golem first play, ma la faccio solo perché mi ricordavo dell'avversario ragazzi, altrimenti non l'avrei mai fatta sta play, qui arriva i golem e golem, eccolo qua ragazzi, un'altra cosa, io vi suggerisco di non fare mai e golem e stregone di prima giocata, su internet vedrete dei gameplay di giocatori veramente ad alto livello che fanno stregone first play, io non ve lo consiglio però, è troppo rischioso ragazzi, se vi beccate contro e golem, mirror match avete perso, se beccate, cioè ci sono dei match up in cui davvero perdete facendo stregone first play, solo se vi ricordate che carte ha l'opponent, allora magari può essere buono. Qua ragazzi noi andiamo con golem e giochiamo la strega, vi ricordate il comandamento, giochiamo lo stregone più volte possibile, qua andava bene anche farmer ma io ho detto al golem, mi ricordo di lui, devo solo stare attento ai neil e questo è un match up favoloso per me ragazzi, non mi devo inventare niente, posso anche spegnere un pochino il cervello e i riflessi, perché qua sono veramente counter, in realtà poi sbaglierò paradossalmente quando uno si rilassa poi va a finire sempre che blandera e vabbè e qua la partita va avanti, ho già fatto dei bei danni e quindi qua ero contento, sono un po' sotto delisir ma è difficile da sfruttare secondo me, cosa mi fa golem ponte? Lo bacio in bocca, sarebbe una giocata in merda, qua ragazzi decido di andare opposite per un motivo particolare, io so che l'avversario vuole giocare golem più strega notturna, questo deve giocarlo, io gioco opposite, così io attacco e magari lui si difende, magari è costretto a difendere, dipende da che carta è in mano in quel momento, se lui si difende il mio stregone, che guarda caso è voluto, difende sia il golem sia la strega ed ha anche ripartenza, quindi potrei fare anche un'altra torre, questa era l'idea, non sempre si va a buon fine però, però l'idea era questa, devo dire la verità, lui va di strega, quindi lo stregone non andrà dietro ai golem, questa volta anche se lui fa draghi d'ossa, tanto che io gioco stregone proprio in difesa, l'unica cosa a cui devo stare attento, come vi dicevo prima, sono i neil, quindi qua la giocata migliore è predict di neil, questa giocata che io ho fatto, ragazzi, con il mio mazzo, va giocata, va fatta, se l'avversario ha il neil, sia che fa neil, sia che non lo ha, voi dovete predictà, perché il mago va salvato, se non salvate il mago perdete le partite, capito? se sapete che in mano l'avversario ha neil, dovete far sta giocarla, qua raga in realtà è andata abbastanza bene per me, qui non ho giocato le migliori, però devo dire la verità, io faccio queste golem perché mi piaceva veramente tanto, a destra faccio una giocata un po' non bellissima, lui fa neil, però io ho un altro stregone, non mi ricordavo del bombarolo evo, questo è stato un mio errore, devo dire la verità, e qua vado in svantaggio, perché lui riesce a fare un bellissimo golem, e io non ho lo stregone in questo momento, per questo vado in difficoltà, ho giocato uno stregone prima in attacco, se vi ricordate, quella, adesso che rivedo la partita, mi sembra una giocata sbagliata, con stregone in mano, rispargnandolo, qui io forse non avrei perso torre, mi sono andata a complicare la partita, ma grazie a Dio l'avversario sbaglia, principe, ponte, no sense, guardate che giocata mi concede, l'andiamo a rivedere perché questo secondo me è importante, quando io vedo che lui mi fa principe, dico cazzo, non hai l'isir, e allora faccio e golem, e stregone, ponte, perché lui non può giocare nulla, che mi gioca i draghi d'ossa, cioè anche non ricordando il cycle, che mi gioca se ha giocato principe, mi gioca i draghi d'ossa, mi gioca i pipistrelli, mi gioca la strega, magari, questa giocata vince automaticamente la partita, ha giocato 5, può giocare solo una carta, e io posso difendere con scheletri, esatto, qua ragazzi non c'è giocata per l'opponent, poi difendo meglio il principe, ci mancherebbe, e vinco così la partita, Clash Royale è un po' come gli scacchi, vince chi non sbaglia per ultimo secondo me, questa è una cosa in comune, chi fa l'ultimo errore perde delle volte, questa è una bella partita comunque, dove ho anche giocato male, ma l'avversario ha buttato al cesso con quel principe, questa partita raga contro mortaio, non ve la faccio vedere perché ero super counter, non ha senso, anche qua ero super counter, ma poi queste sono partite che ho giocato alle coppe, per vedere che avversari si trovavano durante il fine season, contro questa scintilla invece è interessante, ne ho beccate due, vi faccio vedere questa partita qua, perché nella partita di sopra, l'avversario ha il Drago Inferno, che a me non dà nessun problema, c'è il Drago Inferno, magari trovarlo sempre, non è una carta che dà fastidio al mio deck, la strega notturna invece si cazzo, me gestisce i pipistrellini, questa partita era più difficile da vincere, vi faccio vedere questa, premessa, vedo la principessa nello standardo, penso a Logbait, quindi qua gioco veramente come se avessi paura di Logbait, qua non so, ho voluto giocare prima i scheletri, per girare l'evoluzione, potrebbe far comodo contro Logbait, fa comodo anche contro scintilla, fa comodo sempre, qua però, che succede? Io so che lui potrebbe avere Logbait, ma non sono sicuro, rischio un pochino, perché le frecce andavano risparmiate, se ho paura di Logbait, per giocarle sul barile, però ho pensato anche, se lui mi fa barile così, io ti gioco comunque uno stregone, e poi me la posso giocare, se non ha tesla evoluta, Logbait invece è mio, attenzione ragazzi, sono counter, cazzo è successo il gameplay qua? Allora, un attimo si è sconnesso il gameplay, non mi ricordo dove eravamo arrivati, scusatemi, stavo dicendo che se lui avesse giocato Logbait, se avesse giocato barile, avrei fatto stregone, ecco tutto ragazzi, semplicemente questo, Allora, qua decido di fare questa first play, perché è l'unica giocata che si può fare, se hai paura anche di Scintilla, ovviamente mi sono preparato il Nihil, cioè nel momento in cui ho giocato il Farmer, avevo già il dito sul Nihil, pronto per giocarlo, su Scintilla, qua ragazzi, quando dobbiamo difendere, abbiamo lo stregone in mano, tocca giocarlo, è una carta che funziona, lui sbaglia il Nihil, e non sto scherzando, lui, non dico che perde per sta giocata qua, ma poco ci manca, perché questo? Guardate questo momento di partita, lui è sotto delle Sihil, perché il Nihil è stato inutile, in più, non ha la Scintilla, la carta che dà più problemi al mio mazzo, non sapevo avesse strega madre, non si gioca solitamente, qua la giocata è unica, come se l'avversario ha sprecato lo stregone, gioco e golem, decido di giocarla a destra, perché un'eventuale ripartenza, andrebbe sulla torre con più HP, cioè vi faccio esempio, l'avversario che gioca un pecca, va sulla torre con 3700 HP, no su quella mezza morta, non mi aspettavo, decido di splittare il push, e questo split è fantastico, cioè se voi pensate che bisogna fare il trenino, una giocata così non la farete mai, perché questo push è fantastico? Perché l'avversario ha girato la Scintilla, immaginate se il re fosse stato a destra, avrebbe tirato una Scintilla, in mezzo alle due truppe, per non darmi il Nihil, e con la Scintilla avrebbe ucciso tutto, e avrebbe vinto la partita, però cazzo, se pensi che va fatto il trenino, sta giocata che ho fatto io, non la farai mai, bisogna, non è che serve ingenio per farmi l'opposite, devi solo pensare un attimo, qua che succede, l'avversario non può fare Scintilla, io faccio Nihil per rimuovere la strega, decide di fare questo goblin, raga non è una bella giocata ovviamente, ma non aveva altro, perché non poteva giocare Scintilla in questo spot, come vi dicevo prima, la deve fare ora, ma io la torre me la so portata a casa ormai, cioè io qua sono contento, dico ok, me la posso giocare, raga è partito tutto, dal Nihil sbagliato dell'avversario, questo matchup negativo secondo me, se lo vinci, come prima, è perché l'avversario qualcosa va a sbagliare, qua stregone voluto ragazzi, obbligatorio in difesa, mi sento di dire così, lui fa un bel Nihil, no sbaglio, un'altra volta il Nihil, neanche mi ricordavo, giochiamo subito gli scheletrini Evo, e il farmer per distrarre la strega, perché altrimenti avrebbe spawnato troppi maiali, e io qua, cioè cosa fa Scintilla, ma ci sono tanti pipistrelli, posso fare stregone, posso giocare un'altra strega, qua c'ho veramente l'imbarazzo e la scelta, non dico che vincono tutte, quella più da caghetta, è stregone dal fondo, quella che scelgo io, decido di fare frecce e furia, frecce sì e furia, sulla strega e Nihil, e qua io vinco la partita ragazzi, era difficile da tankare, lui voleva giocare altre truppe, in realtà qua faccio un errore, perché io pensavo di aver vinto, ma non è così, riesce comunque a fare la torre, quindi io qua me la complico, però raga, al mio posto sinceramente, era veramente umano sbagliare, Scintilla strega madre, cioè provi a vincerla subito, parlamoci chiaro, però è sbagliata la play, ci mancherebbe, tutte le volte che lui fa principe dal fondo, io lo bacio in bocca, tra virgolette, cioè io so che lui, se fa principe deve giocare il gigante goblin, ma io lo difendo, un push così, il mio deck lo difende, stregone voluto, scheletri, prenderò dei danni, e vaffanculo, ho difeso però, poi ti riattacco, l'avversario però fa una bella play qua, mi predica, gioca strega madre centrale, e io questa non l'avevo pensato, devo dire la verità, devo giocare farmer, Neil, sulla sua scintilla, forse non è obbligata, però io qua volevo attaccare, giocando la scintilla, come si dice, togliendo la scintilla, impedisco che lui mi possa fare qualsiasi push sulla torre centrale, è costretto a difende, io qua gli gioco scheletrini evo, fortissimi, e abilities now, non può difendere, è partito comunque quasi tutto, da quel Neil sbagliato ragazzi, quindi, la mia strategia delle volte, quando trovo un counter veramente grande, è anche giocare d'attesa, devo aspettare che lui sbagli qualcosa, perché se io attacco, e lui difende, fa scintilla, fa tutto, e io me la prendo in culo, ragazzi, vi faccio vedere anche un'altra partita, contro questo mortaio veleno, non ve la faccio vedere, perché l'avversario ha miscliccato veleno, non ha senso vederla, ha miscliccato, non ha fatto nessuna scelta sbagliata, ha cliccato male col dito, triste, allora, l'ultimo mashup, ve lo faccio vedere solo per non terminare subito il video, è un mashup buono per me, qua sono 100-0 totale, è vero col cannoniere, è vero che lui ha tante truppe piccolette, ma lui non ha steregone, non ha struttura, non ha carte che fanno danno a splash, ha solo la principessa che posso togliere, qua l'avversario deve sempre perdere contro il mio deck a gioco corretto, non sapevo chi fosse, vedo che ha la duchessa, e tiro già un sospiro di sollievo, vi dirò la verità, duchessa secondo me veramente anche peggio del cannoniere, è veramente debole in questo momento, qui ragazzi su gang facciamo stregone, perché il mazzo deve giocare stregone, deve giocare più stregoni possibili, io qua gioco come se fossi sicuro che l'avversario abbia log bait, anche se in realtà le reclude, so che se ha la tesla evo perdo, so che se non ha la tesla evo vinco, in realtà quando vedo i rascals capisco che è l'avversione col principe, quella senza tesla evo, allora dico ok si può vincere, non mi aspettavo che in realtà l'avversario avesse le reclude, ma nessuno, quando mi gioco a carceri io dico c'è qualcosa che non va, cazzo, o potrei aver già perso la partita, perché non so contro cosa sto giocando, quando vedo le reclude tiro un sospiro di sollievo, mi dà valore a destra, in più so che è un matchup stupendo per me, delle volte magari, forse devo rischiare un pochino, qua ragazzi in teoria non dovrei mai giocare i golem, se l'avversario ha le reclude volute in mano, perché lì potrebbero succedere cose difficili da prevedere, qua me ne frego, me ne frego perché veramente non soffro nulla, al di fuori della principessa, su cui però posso sfrecciare, qua decido di fare degli scheletri, giocata che a me non piace troppo, però mi concede di fare già un e-golem, e io vi dico che farò i golem, quale carta va giocata dietro i golem, la strega sì, ma è fondamentale giocare lo stregone voluto ragazzi, dietro le golem secondo me qua, perché l'avversario farà reclutevo, e con lo stregone noi gli mettiamo davvero tanto fastidio, faccio prima strega, ma sapevo di dover giocare comunque lo stregone, e non mi tiro indietro, quando lui fa wall breakers a sinistra, ho pensato ai tiri a frecce, però ho pure pensato, cazzo se io attacco rischio di far tre corone, e alla peggio è tower train, alla peggio raga, frecce su principessa, intuscheletri su arciere, perché altrimenti fa finire che me le pido tre corone, faccio abilities now, lui fa dei bei arcieri che non mi ricordavo fossero evo, io in realtà qua pensavo di aver vinto, pensavo di aver fatto tre corone, non è così, anche se sono messo molto bene, però io qua capisco che posso vincere, o capisco che ho matchup della madonna, quindi gioco calmo, non mi devo inventare niente, reclute totalmente sbagliate, voleva fare anche questi rascals centrali, ma come vedete è facile giocare attorno a questa giocata di opponent, veramente molto facile, qua si può giocare secondo me anche e golem centro, se ti ricordi del cycle dell'avversario, capito? Andiamo a rivedere un attimo, perché altrimenti voi mi giocate e golem al centro a cazzo dei cane, porca gliela foca, clicca beh, ecco, vedete ragazzi, perché ho fatto queste golem centrali, perché sapevo esattamente tutte le carte in mano dell'avversario, raga, sapevo che non aveva niente, mi ricordavo che aveva barile e che aveva wallbreakers, perché non l'aveva mai, non l'aveva mai, cioè non li giocava da un bel po', le reclute, le aveva fatte da poco, e ragazzi, aveva in mano per forza o una spelle, le frecce, oppure principessa e arcieri, con queste gole in ponte vinci subito, ma non è che tu la fai a caso sta play, non è che in mezzo a una partita vostra a caso sparate sta giocata, no, perdete tutte le partite, questa sembra la giocata del nabbo, invece una giocata bella, se ti ricordi il cycle, in un altro momento sta giocata perde, perde sempre, ovviamente ho preparato subito le frecce sul principessa, questa partita è stravinta ragazzi, è stravinta, vedete però ragazzi, se voi rimanete fossilizzati sui meme che giravano fino a un po' di tempo fa, trenino tutto, sta giocata qua, neanche la considerate, le 2008, non so dopo se le fate, capito? Bisogna cercare, capito? di improvvisare, bisogna essere anche un po' creativi forse, non lo so, vabbè ragazzi, comunque che cazzo ne pensate di sto video, spero non aveva rotto i coglioni, fatemi sapere, ragazzi, noi ci vediamo questa sera in live sul sito Viola, vi voglio un mondo di bene, c'è il fine stagione, lo giocheremo sul primo account, però il primo, il fine stagione, il mio primo account è di Riccardo, attualmente c'ha 2700 medaglie ragazzi, fatte a fatica, top 1400 al mondo, io ragazzi su questo account gioco peggio, non lo so, sul secondo account, quello che state vedendo adesso, happy 2800, come vedete, le ho fatte senza troppi problemi, sul primo account è una bestemmia totale, ragazzi, ah un'altra cosa, me utilizzate il codice creatore nefastone nello shop, raga, dei Clash Oyalo, dei qualsiasi gioco Supercell, se lo fate, scammerete anche voi le partite come le scammo io, grazie de core a tutti ragazzi, non esagerate quei video, di Martina Smeraldi,